e ora prenditi un po di tempo per assaporare questa serenità e questa pace per assaporare la gioia di stare con te stesso e di dedicarti un momento di rilassamento ti trovi immerso in questa meravigliosa natura e permetti al tuo corpo e alla tua mente di rilassarsi profondamente lascia che il tuo corpo diventi sempre più calmo mentre fai questo viaggio nella natura fai dei respiri profondi inspira ed espira e immagina che l'aria che entra ti porti energia e benessere mentre l'aria che espiri l'aria che esce porti via tutte le tue tensioni continua così inspira ed espira ed entra in connessione con il tuo respiro e mentre espiri lascia andare tutti i tuoi pensieri fai un altro respiro ancora uno e ogni volta che espiri cerca di lasciare andare tutto ciò che non vuoi più trattenere respira a pieni polmoni e con ogni ispirazione porta ossigeno ed energia nel tuo corpo ad ogni ispirazione lascia andare la tensione i pensieri le preoccupazioni e accogli dentro di te la calma e la pace lascia andare tutto tutto ciò che non vuoi più trattenere può essere una persona o un pensiero oppure ancora una situazione che ti fa soffrire inspira dal naso ed espira dalla bocca e lascia andare ogni respiro diventa sempre più lento e profondo e ha un effetto calmante sulle tue emozioni e sui tuoi pensieri sei sempre più tranquillo e rilassato in uno stato di calma e di pace e ora ascolta il rumore dell'acqua di questo torrente è un'acqua che ti sta cullando l'acqua scorre così come scorrono le cose rappresenta il fluire dei giorni e il lasciare andare tutto ciò che non ti serve più il suo movimento assomiglia un po alla nostra vita a volte può essere impetuoso altre volte lento calmo o anche statico impercettibile e mentre continui a respirare lentamente rimani consapevole dell'acqua che scorre e che si muove all'interno del tuo corpo l'acqua questo elemento della natura prezioso e universale il tuo corpo è composto dall'acqua e respirando ringrazia il potere di questo elemento che vibra e scorre dentro di te così come scorre nutre e purifica tutta la natura lasciati purificare e rigenerare mentre lasci fluire ogni cosa che non ti serve per la tua pace e per la tua serenità osserva quest'acqua nei dettagli osserva la con meraviglia con stupore mentre scorre abbracciando queste rocce è un torrente che ci dona madre natura e ha un potere speciale quello di emanare un'energia meravigliosa una bella luce e dei riflessi cristallini avvicinati all'acqua e immergi le tue mani e senti com'è fresca com'è profumata e rilassati sempre di più mentre il profumo del bosco ti segue lascia che col suo potere terapeutico pulisca e faccia scivolare via tutto quello che non vuoi più trattenere tutto quello che vuoi far uscire pensa a una cosa a una cosa che vuoi lasciar pulire dal torrente per liberarti dal suo peso e da quelle sensazioni che ti pesano dai ricordi dalle persone che vuoi lasciare andare per ricominciare da qui e guarda tutte le cose che sono affiorate alla tua mente ogni pensiero ogni preoccupazione e ogni zavorra che non ti permette di vivere con più leggerezza guarda osserva tutte queste cose e mettile nelle tue mani poi prendile e versale nell'acqua di questo torrente e lascia che con la sua forza vitale ti pulisca ti purifichi e ti rigeneri donandoti energia luminosa e totale serenità in completa armonia con la natura e con te stesso e attraverso